Amo! E' la piastra accesa! Pausa! Amo! Sto a pausa! Amo, hai chiamato! È arrivato un uomo nero! Good morning, Gingri Gang! Non riesco a parlare troppo bene perché ho la faccia tutta appiccicata di... Ma che no! Ora sto facendo questa maschera insieme al mio ragazzo Benvenuti in questo nuovo video! Come state? What up, boys and girls? Che ne pensate voi di questi capelli? Secondo voi vi stanno mai lunghi o corti? Schiacciate forse dei commenti E un'altra cosa Oggi faremo la pausa challenge Ovvero una challenge molto conosciuta In cui vivi la tua vita normalmente Fai quello che devi fare, vai in giro Fai scrivere quello che devi fare Arriva una persona che ti dice Pausa con telecomando E tu devi fermare l'azione Ne abbiamo aggiunto pure queste due cose Ovvero Amora Praticamente noi apriamo il telecomando Abbiamo il tasto pausa Abbiamo il tasto slow-mo Per fare tutto all'allentatore E poi il tasto speed Non so cosa si chiama Speed per due Quello di per due raga Il tasto per due Quello dove devi andare più veloce Ok, quindi facciamo subito una prova Eh, mi dispiace Facciamo come se l'avessi preso Prendimi il mio telefono Eh, sto telecomando è un po' strano Slow-mo Per due Per due Posa Per due Slow-mo Ok, avete capito il gioco Amo è normale Vai Avete capito il gioco Allora E poi lo facciamo schifo Lo scherzo a Jing Amossi Ammoo si sbava tutto metto il trucco andiamo a vedere oi amore oi amore pausa amore è la mia stracenza e quindi? togli no amore ti prego togli il potere del telecomando è troppo forte amore si scosa si scosano si bruciano si bruciano li stai togliendo infami rigabbara guardate li sta togliendo amore ok ok tolta pausa fa vedere scialla tranquilla ma non si sono bruciati sotto serio? senti dice che io ce l'esco ma sei buona ma sei buona sei buona ma sei buona per due sloomo ma ho detto pausa amore ho detto sloomo eh sloomo ma quanto sloomo amore si sono bruciati ci cacciano di casa qui si sono bruciati ragazzi non si sono bruciati non si sono bruciati toglimi toglimi no no devo fare io amore non puoi fare veloce lo sai ma bella amore mi fai parte mi fai parte ma io non mi so parte più normale oia ti amo patata I'm back prima il mio ragazzo ha davvero sgravato ragazzi perché io ai miei capelli ci tengo davvero un sacco non avete idea di quanto ho infartato perché io penso che me li abbia bruciati quindi mi devo vendicare assolutamente mi devo vendicare assolutamente tra un momento che dice andiamo a vedere quello che sto facendo pausa togli pausa togli pausa togli pausa oh my god oh sei tutto bagnato ho tutta la torre l'unica cosa importante slomo ok togli pausa togli pausa togli tutto che schifo non fate mai piangere le vostre fidanzate al massimo sputate l'acqua in faccia oh baby thank you so much amore oi mi puoi andare a prendere quello elastico la pausa che bello amore stanno arrivando le macchine sto a pausa ragazzi stiamo guardando un film cefalee di tensione o aggrappolo e mal di schiena con l'operazione di artrotesi lombare che mi immobilizzò più non abbiamo manco potuto vedere il film perché il biglietto che avevo non andava bene es focus oddio sono un camera e niente quindi abbiamo tutto il tempo nel cinema obelisca stanno dal car ok abbiamo appena corso un botto perché lei mi ha fatto correre leva la pausa non arriverà mai per andare al carfor qui io non so bene cosa stia succedendo non mi sto qui ora sono pronta non ho la telecomando in mano è l'una tardissimo siamo stanchi ma dove è telecomando rega ma noi l'abbiamo perso telecomando è qui pausa pausa rega non funziona molto e mi stanno ancora muovendo forse non ha capito il gioco non ha capito il gioco lei non si è accorta rega serio che io erano il primo gelato gliel'ho dato e se ora lo sta mangiando io faccio il meglio scherzo che mi ha venuto in mente con il telecomando amo pausa no no lo devi togliere un boccato amo bene ho visto che l'hai tolto un po' ammettito no no lo devi togliere fin quando non dico pausa non ti ha mai mangi eh eh no va qua pausa ti fa male la mano piccolino devi stare immobile devi stare immobile oh no no pausa tolta amore cosa è quella scu... Mimì guarda quanto Mimì chi è? tua mamma oh mia mamma ciao amore oh i mamma pausa non puoi parlare amore ah offrati hai perso togli pausa amore hai perso no si ok però voglio la rivincita oh perché prima te ti sei un po' ammossa mentre facevi con il gelato si si hai parlato anche te ok mamma adesso siamo pari no non siamo pari io voglio la rivincita ma come ti voglio la rivincita bro hai venuto un'altra pausa eh non metto a fuoco ok mi hai venuto un'altra pausa in mente col duro durante glielo spunto tutto sul braccio e la metto in pausa e boh non lo so lo vediamo amo amo che vuoi amo pausa amo pausa sei sta zitta amo brucia no amo brucia tolta la pausa amo che hai qua senti che puzza amo serumi bruciata però sono bellissima è quel è l'etorante è l'etorante che puzza mi piace amo non c'è una parte delle ciglia mi piace coccionina ti amo ora sto dicendo il mio ragazzo di scendere un attimo per andare a comprare la spesa e intanto mi porterò questa pazzia ragazzi lasciate like perchè questo è scavato non è l'etorante non è l'etorante eh pausa amo il telefono il telefono amo vabbè ti faccio da questa sorpresa amore mio ragazzi la plastica va sempre raccolta perchè sennò i dinosauri si seguono sto a pausa oh amore ti prego ah 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 amo pausa pausa in pausa sei una m*****a niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi dispiace che sia finito tutti abbiamo fatto delle cose gravatissime vi lasciate 21 like per il prossimo video se non vi metto un pausa ragazzi se era davvero un bazzante iniziato non vi disisi ragazzo tutto bagn8 Iscrivetevi al canale, andate a seguire su Instagram Davide Massari e Ging Corcia, corcia, eh raga mi dispiace Ci vediamo nel prossimo video? Allora raga, amo la fotocamera Questa era bella dai Se lo mette nel video, ciao Mettete un like Amor, amor hai tramato Cercando di fare la copertina Gigi Dug Amor, non c'è Ciao, ciao 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 Ciao